Sono oltre 100 gli attualmente positivi al Covid-19 nel territorio del Comune di Teramo. Numeri ancora sotto controllo rispetto a quelli fatti registrare lungo la costa, ma comunque proporzionali alla crescita regionale. Lo rende noto il Sindaco Gian Guido d'Alberto dopo il summit tenuto ieri in prefettura. La situazione è sotto controllo rispetto ad altri comuni e anche e soprattutto rispetto alla costa, dove invece i numeri assoluti sono rilevanti, soprattutto in alcuni comuni. Abbiamo solo tre ricoverati, quindi questo forse è un dato che va accolto positivamente, nel senso che c'è un'ampia quota di vaccinati. Insiste sulla campagna vaccinale d'Alberto, facendo appello a spingere sulla vaccinazione, soprattutto in vista delle festività natalizie. Se ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni, oltre alle prescrizioni nazionali, prosegue il Sindaco, ci ragioneremo in base ai dati. Buona la scelta dell'Asle di aprire anche altri spazi. Spingiamo sulla vaccinazione anche in prossimità delle vacanze natalizie. Ieri in un incontro tecnico in prefettura si è ragionato su quelle che potranno essere, una volta pubblicato e reso ufficiale il decreto, le misure che consentiranno di svolgere un Natale, come il Presidente Draghi ha detto all'insegna della normalità. Proseguiamo con questa spinta sulla campagna vaccinale sulla terza dose e contestualmente innalziamo il livello di attenzione e anche le misure di protezione che ci consentano di gestire questa fase natalizia in maggiore serenità e libertà. Attenzione massima sulle scuole, nelle quali forse lo screening di tamponi salivari non ha prodotto risultati massimi. Si stanno applicando i nuovi protocolli che ora dovranno essere messi alla prova anche dei nuovi dati. Anche ieri in prefettura, ragionando con Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo condiviso la necessità assolutamente di allargare l'attenzione istituzionale, il tavolo istituzionale anche e soprattutto alle scuole per il tramite dell'Asle. Grazie.